per riviera sport siamo con mister busacca iva per don bosco valente media femminile com'è nata questa idea si buonasera innanzitutto ma è nata dal fatto che è un progetto che sia io che la società stavo dietro da tempo poi momento in cui abbiamo visto che alcune ragazze che giocavano in altre società sono ritrovate svincolate queste occasioni per incontrarle per presentare il nostro progetto e così abbiamo iniziato a lavorare insieme si è creata la squadra si è creato un gruppo meraviglioso parliamo di ragazze che provengono da delle realtà importanti alcune ragazze hanno già giocato insieme alcune hanno esperienza poi abbiamo delle ragazze giovani con talento insomma è un bel gruppo è un gruppo che trasmette tanta passione energia sono felice di poterle accompagnare questo progetto da quanto tempo esiste da quanto tempo esiste questa formazione è nata da un paio di mesi e abbiamo iniziato a lavorare adesso cercheremo di migliorarci di volta in volta cercando di renderci protagonisti in questo campionato adottandoci tra l'altro in un campionato 5 considerando che loro provengono la maggior parte della campionata 11 questa sera c'è un incontro amichevole esattamente questa sera un piccolo test una partita amica con i ragazzi dell'impegna dove insieme ci potremo per mettere poi in pratica alcune cose per poi vedere anche il lavoro che andremo a fare grazie 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 gra Grazie a tutti.